amici del bardo oggi la domanda è molto semplice da quando seguite quindi tra tutti quelli che avete visto quale incasso della valigetta del money in the bank non dimenticherete mai e perché potete nominarmi l'incasso più sconvolgente più spettacolare più imprevedibile magari un incasso fallito o magari l'incasso del vostro o della vostra atleta preferita e sì perché potete selezionare anche gli incassi femminili quindi sono molto curioso di scoprire chi sceglierete e perché ditemi tutto come al solito nello spazio qui sotto quello dai commenti